Ci troviamo alla sede dell'Avis Piazza Armerina perché da qualche settimana è ripreso finalmente l'attività di questo importante centro di raccolta di donatori di sangue. E' stato pubblicato un calendario delle donazioni che è partito appunto a fine febbraio ed è previsto per tutto l'anno 2016. Oggi qui è un altro giorno di donazioni, lo staff dell'Avis è come sempre attivo ad accogliere tanti volontari che arrivano qui per donare il sangue. Salvo Cancare, presidente dell'Avis Piazza Armerina. Salvo, finalmente siete riusciti a superare gli ostacoli amministrativi. Avete potuto riprendere la vostra attività principale, quella di raccolta di sangue da parte dei volontari a Piazza Armerina. Quali erano stati i problemi? I problemi sono stati burocratici perché noi avevamo fatto la richiesta l'anno scorso a marzo alla regione siciliana. La visita ispettiva a seguito della nostra richiesta ce l'hanno mandata a metà ottobre, il report di verifica ce l'hanno mandato a dicembre. Le lungaggini burocratiche di una regione che è un po' allo sbando, soprattutto nel settore sanitario. e hanno tenuto questa splendida sede, un gruppo di volontari fermi per sette mesi e mezzo al fine di conseguire il decreto dovuto. Noi con Dando Imbegno abbiamo assolto tutti gli addempimenti che erano obbligatori, la sede, la conformità dei macchinari. Abbiamo fatto investimenti notevoli, basta entrare in zalla a prelevo, abbiamo attrezzature per un certo quantitativo di euro. Ho perso pure il conto di quante soldi abbiamo speso. Poi soprattutto al di là di questo anche il lavoro di tutti i volontari che, come dici tu, hanno tenuto in piedi una sede nonostante anche l'incertezza rispetto all'esito di questa richiesta di accreditamento. Sì, la strada è stata delineata dai volontari in maniera igreggia e fantastica, ma il grazie più grande va ai donatori che ci hanno aspettato. Infatti, ho visto un fitto calendario di appuntamenti per chi vuole donare il sangue, con lo spot di basta tanto così, vieni a donare. Questo è l'invito, ancora è l'inizio, perché il nostro motto è abbiamo fatto la casa, ora dobbiamo fare gli abitanti. Stiamo cercando in qualche modo di iniziare a diffondere ancora di più in maniera capillare la cultura della donazione del sangue. Non è semplice, perché le percentuali ci danno torto. In base alle potenzialità che ha questa città di potenziali donatori quelli che sono effettivamente donatori è una minima parte, circa il 5%. Quindi vorremmo inalzare questa sticella dei numeri. Siamo qui, grazie alla collaborazione dei volontari siamo riusciti a riportare un punto sanitario accreditato ufficialmente dalla regione siciliana al sistema nazionale sanitario al centro del paese. Sì, quindi questo è importante, là dove la sanità chiude noi apriamo e questo è un altro dato importante. Ci troviamo adesso proprio all'interno della sala che il Presidente ci diceva, con tutta questa meravigliosa e nuovissima attrezzatura. Abbiamo qua una volontaria di Piazza Armerina che è venuta a donare il sangue, come va? Bene, molto bene, molto serena. Contenta di questa riapertura del centro? Sì, sono stata molto contenta, infatti mi sono complimentata perché l'attività è potuta riprendere e possiamo fruire di questo servizio e dare il nostro servizio e il nostro contributo alla comunità. Come trovi questi nuovi locali, insomma con questa nuova attrezzatura? Sempre nelle migliori condizioni per dare il servizio migliore, come sempre, con puntualità, organizzazione, cortesia e poi i macchinari e il personale adeguato. Questa è la zona praticamente a supporto della sala sanitaria, dove vengono registrate le sacche col sistema Emonet, che è il sistema regionale per la codificazione dei donatori e delle donazioni di sangue. Oltre a questo abbiamo la zona dove ci sono i frighi che riguarda la conservazione per poi portare queste sacche di sangue all'ospedale Tiello e infine abbiamo il magazzino sanitario. Quindi questa è una stanza di supporto alla sala prelievo. Dottore Arco, il direttore sanitario della Vizpiazza Armeria. Dottore Arco, oggi tanti donatori volontari, anzi anche oggi tanti donatori volontari. Sì, in effetti abbiamo tanti donatori. Ormai siamo arrivati al punto di dover programmare le donazioni facendo quattro donazioni tutti i venerdì del mese, cioè una donazione ogni venerdì del mese e in più praticamente due domeniche al mese dedicate sempre alle donazioni, in modo da organizzarci meglio con il lavoro, da non dare delle attese troppo lunghe anche ai donatori che a volte arrivano qui per poter fare la donazione ed evitare di perdere troppo tempo. Si può definire un profilo di un donatore oppure c'è quindi giovane, un lavoratore, donna? Allora, abbiamo migliorato tantissimo la cultura del donatore. Nel senso che avevamo un parco donatorio un po' adulti, ora invece abbiamo un po' di tutto. Cioè molti giovani, alcuni proprio appena diciottenni, abbiamo anche altri invece che sono già recuperati nel tempo perché magari alcuni non fanno donazione da un po' di tempo o l'hanno fatto in altri posti, insomma li abbiamo così. E invece la cosa più bella è che abbiamo molte donne che all'inizio, vent'anni fa, insomma era praticamente quasi impossibile che ci fossero delle donne che facessero le donazioni. Quali sono i vantaggi per chi viene a fare una donazione? Quindi non solo regalare un aiuto a qualcun altro ma anche avere, come dicevamo, un check-up praticamente gratuito da un punto di vista ematico? Certo, infatti il donatore intanto viene soprattutto perché è spronato dall'azione, dalla buona azione che può fare nei confronti degli altri, del prossimo e degli ammalati che poi ovviamente ricevono il sangue. È importante il fatto che comunque si tengono sotto controllo e tra l'altro diciamo con la spesa sanitaria in restrizione fare delle, cioè facendo la donazione, diciamo riusciamo ad avere degli esami del sangue che magari non vengono fatti normalmente e questo viene fatto tutto gratuitamente con altri eventuali controlli, cioè nel senso che se riscontriamo qualcuno un problema cardiologico facciamo l'elettrocardiogramma o comunque facciamo qualche radiografia quello che è praticamente necessario per garantire la salute del donatore e ovviamente del ricevente. Grazie a tutti